Ma voi che state a Milano, perché non dite al governo di provvedere? Il governo è già provveduto con la bretella. Uè Giulio, ma tu l'hai vista la bretella? Quale bretella? Viene definita bretella in quanto con un autace banzo ingegneristico congiunge Putigliano Salentino con Marciano del Monte. Geniale opera autostradale a numero 4 corsie. Sviluppa chilometri 49,600 per un costo complessivo di miliardi e 86. Oggi si può raggiungere con orgoglio Marciano del Monte in 22 minuti e disponendo di grossa cilindrata quale Ferrari o Maserati anche in 16. Ma uno cosa ci va a fare a Marciano del Monte? Un cazzo, non ci va mai nessuno. Siamo arrivati. Qua sta impiegato Armando, tu te lo ricordi Armando? Eh, come no? Ha ottenuto questo posto perché è raccomandato dal prefetto, dal vescovo, da cinque sindaci e tiene due lauree. E ora studia per pigliarsi la terza. Armando! Armando! Armandì! Uè, come state? I che bello amprovvisato, eh? Guarda quanto sta bene l'amore. Eccolo c'è l'amore. Ehi, scantato, mettilo all'oltre. Ma perché è pericoloso? Ehi, va bene che in dieci giorni è passato solo un'ambulanza, ma insomma, i che piacere, va. E chi se l'ha aspettato? Ciao! Ma questo è Giulio. Giulio, come stai? Bene, viste che bella sorpresa. Sono per la bretella, l'ho detto, andiamo a trovare un po' l'Armandola. E che piacere. Ti trovo bene, Vincenzina, come sta? Bene. Adesso la faccio vedere. Ultima edizione, tra chi. Eh, cosa ve ne pare? Si è fatta bella, Vincenzina, eh? Meravigliosa. Perché io sto male, sembro il sceriffo di Ok Coral. Ottimo tiratore, eh? In tutti i sensi. E questo chi è? Quale? Questo. Ah, un amico. Ah, così giovane. Prego osservare l'espressione da sceriffo tramutarsi alla svelta in espressione tipo presentatore di festival. Qui giù, che tieni? Eh, come? Al Milan, a chi vuoi che tenga, oh!